di pratica mini-invasiva, dell'ingegneria ad altissimi livelli, super specializzati. Addirittura ieri ero in contatto con una mia collega che è una esperta presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Allora, ecco, credo che la gente debba apprezzare l'impegno di queste persone. E sebbene non siano attivisti, noi sappiamo che il movimento è composto anche da questo nucleo essenziale, dal cuore pulsante, che sono gli attivisti, debbiamo apprezzare l'impegno di tante persone che hanno la loro occupazione quotidiana, ma che finalmente hanno deciso di scendere in campo, di prestare la propria esperienza per sollevare dalle macerie questo paese. Ma comunque il movimento è stato spesso accusato, la raggi a Roma quotidianamente, di essersi impegnato in politica pur non avendo delle competenze. come si può governare un paese ormai alla frutta purtroppo come l'Italia? Tu, per esempio, sinora non hai avuto alcuna esperienza politica. Non avendo mai militato, mi sembra, in maniera massicchia, in maniera importante, in un partito politico, hai avuto soltanto, si leggevo l'altro giorno, in questi giorni, una mini esperienza, così possiamo dire, nel partito democratico. Poi? Guardi, professore, il movimento, guarda, anzi, scusami, il movimento paga lo scotto di una disinformazione, anzi, starei per dire di una informazione altamente distorta. Probabilmente questo è frutto proprio di un accordo tra le forze maggiori in campo che in questi anni si sono contesi il governo, il cosiddetto regime, io l'ho scritto e lo continuerò a dire in questa campagna elettorale, il regime Pidino-Berlusconiano, che con i vari sistemi legislativi che si sono alternati fino a questo scarabocchio di legge che ci porterà il voto tra pochi giorni, hanno l'unico scopo di eliminare il Movimento 5 Stelle. l'è chiaro lo scopo. Dopo si faranno l'occhiolino e chissà cos'altro. È uno degli obiettivi. È uno degli obiettivi principali. Arriveremo eventualmente a parlare anche della legge elettorale e spero anche in un futuro approfondimento nei prossimi giorni. Ecco, il mio percorso, io la devo correggere su questo, non è vero che non ho mai fatto politica. Lasciamo stare al netto della mia esperienza. Nei partiti, voglio dire. Ecco, non è perché se parliamo di politica, la politica, quella che ha insegnato per tanti anni Moro, che continua ancora, forse ancora più da morto a insegnare, è davvero cosa ben diversa da quella che viene svolta nei partiti, da quella che viene amministrata all'interno dei partiti. Allora, di politica dovremmo parlare dell'insegnante che a scuola fa il suo dovere nei confronti degli alunni, di ognuno di noi che esercita il proprio... Tutto è politica. Tutto è politica. Tutto è politica. Ecco, il mio passato ha visto davvero una parentesi brevissima in un laboratorio di idee, un incubatore di idee che all'epoca aveva l'intenzione di rendere alle città un programma che era stato studiato al nostro interno, che prendeva ovviamente spunto dalle varie disponibilità che all'epoca avevamo, quindi sia dall'industria, dal commercio, dal mondo della scuola e offrirle alla città. Una brevissima parentesi che purtroppo, purtroppo non ha avuto successo, ma onestamente io devo dire, intanto non ho mai avuto una tessera di partito perché avevo deciso di non fare politica, nel senso di attività diretta all'interno delle istituzioni. Poi che è successo? È successo quello che è successo ad Aldo Moro. Aldo Moro, vi racconto questo aneddoto e credo che sia davvero efficace sul punto. Aldo Moro aveva promesso a un certo punto della sua vita di non impegnarsi più in politica, era stante, non ce la faceva più di lottare contro il muro. Ma un bel giorno, avvicinatosi alla culla del suo amato nipotino Luca, lo racconta la figlia, disse, caro Luca, io non sono più in grado di mantenere questa promessa, di non impegnarmi più in politica, lo devo fare per te. Ecco, la stessa cosa è accaduta. Che rimasti sul campo? Rimasti sul campo, la stessa cosa è accaduta a me, professore. Sono stanco di stare a guardare, ho il dovere morale di intervenire secondo le mie possibilità, secondo le mie competenze. Ognuno deve portare il proprio mattone. Dobbiamo farlo tutti. I prossimi 30 giorni ci daranno la possibilità di regolarci per i prossimi 10 anni. Dicevi poco anzi che ci sarebbe da stare per ore qui a parlare della legge elettorale, del Rosale... Rosatellum. Ma così non possiamo parlarne in questa occasione, il tempo è breve, ma mi puoi dire se ti piace o no. Guardi, professore, io ho il Rosatellum, il Rosatellum bis, perché col bis i nostri parlamentari ci hanno fatto intendere che hanno lavorato per una seconda volta, almeno siamo tutti soddisfatti. È l'imbroglio degli imbrogli, un autentico specchietto per le allodole. Siamo all'apoteosi dei nominati e io direi, lo chiamerei non Rosatellum, ma Truffellum, soltanto per adeguarsi all'uso della desinenza del genere latino neutro che mal si addice appunto a questo sistema elettorale che ci porterà al voto nei prossimi giorni. Senti, Avvocato, il Movimento ha previsto di far pagare una penale di 100.000 euro per chi dovesse cambiare casacca. Obiettivamente, sai, girano le scatole degli elettori che votano una persona in un partito e poi se lo vedono passare in altri schieramenti. Sarebbe più giusto, almeno secondo l'elettore, di mettersi e farsi rileggere nell'altro partito. Guardi, il Movimento ha due principi fondamentali e basilari. Intanto è la lealtà e poi c'è l'anticorruzione. Noi siamo testimoni di quello che diciamo e lo facciamo sul campo. Io stesso, quando ho accettato la candidatura che mi è stata proposta, ho filmato un accordo con il quale appunto è previsto che in caso di cambio di casacca sarò tenuto al pagamento di una sanzione. E' più che giusto. Il candidato, il futuro parlamentare, deve tenere fede all'impegno preso con i suoi elettori. Con chi ti piacerebbe essere al governo? Se come è probabile nessun partito avrà la maggioranza e quindi potrà governare da solo e quindi dovrà fare un governo assieme agli altri. Con chi? Si dice con Salvini. Ma in questi giorni ci stanno collocando tutte le parti. Al centro, a destra, a sinistra, a centro-destra, a centro-sinistra. Personalmente, avoca, chi ti piacerebbe avere al fianco? Con chi fare coalizione? Professore, noi abbiamo 20 punti nel nostro programma. Non è vero che il movimento dice no a tutti, si è detto che il movimento dice no a destra, a sinistra, è una questione molto particolare. No, assolutamente no. Di Maio diceva che ci confronteremo sui programmi. Benissimo. Noi ci confronteremo sui programmi. Saremo disponibili a trattare con tutti coloro i quali che vorranno abbracciare il nostro programma. Aggiungendo magari anche altre... Il valore aggiunto è sempre una priorità, assolutamente. Senti, avoca, il tempo stringe, è una riunione importante alle ore 18, è un avvio di una campagna elettorale che durerà un mese che non ti farà dormire. Norma, e l'hai messo in conto. Quindi dobbiamo andare avanti. Se sarà eletto, come ci auguriamo, perché Mesaglia ha bisogno di un proprio rappresentante in Parlamento, come ti rapporterai con l'aggiunta del governo Scoditti, eh Scoditti, perdono, Bolfetta-Mesaglia? Sono rimasto indietro di qualche anno. Professore, i nostri rappresentanti eletti nelle istituzioni, parlo sempre del Movimento 5 Stelle, non assumono la qualifica di parlamentare, di consigliere regionale, di amministratore, eccetera. Assumono la qualifica di portavoce dei cittadini. Ecco, la parola è chiara. Portavoce... Ti sentirai portavoce di questa città? Ma rapportarsi con l'istituzione è necessario. Raccogliere le istanze della gente, le istanze delle amministrazioni che comunque hanno espresso il proprio rappresentante è imprescindibile. È giusto che sia così. Certo. Chiunque esso sia, naturalmente. Nella passata legislatura, Bessagni ebbe come parlamentare, lo sappiamo tutti, Toni Materrelli. Dal 4 marzo potrebbe avere l'avvocato... Beh, auguriamoci. ...a resta. Ti sentirai punto di riferimento della città, del territorio, sono 20 comuni più o meno, eh? Diciamo, come dire, sei pronto a prendere il testimone dalle mani di Toni Materrelli? Io ho dovuto riflettere molto sulla scelta che stavo per fare. Di altro è una questione familiare, io ho due bambini, ma anche e soprattutto per una questione professionale e per il mio impegno che ho assunto nella postulazione della causa di Aldo Moro, che mi porta, mi ha portato, all'autosuspensione da qualsiasi collaborazione, almeno per il periodo in cui sono candidato. E' chiaro che vorrò mantenere, e lo sto facendo in questi giorni, in questi pochi giorni di campagna elettorale, sono in giro, a piedi, a raccogliere le istanze della gente, sono davvero tante, sono tutte istanze di sofferenza. Raccolgo solo istanze di sofferenza. La gente... Nessun testimone. No, no, la gente non ha bisogno più di parole. Io non andrò in giro a raccontare frottole, non posso promettere nulla se non il mio impegno personale e professionale. Anche perché i problemi del nostro territorio sono innumerevoli. La sanità, Dio mio, Perrino, Mesagno, ospedale. Avremo da parlare un mese. Un mese. L'ambiente, siamo tra l'Ilva e Cerano, il lavoro, lo sviluppo economico. Se eletto, se eletto, come ti auguriamo sempre, quali sono i temi per i quali ti senti resti portato? Poi ci sono le commissioni, parlamentari, quindi dobbiamo dare delle scelte. Io mi auguro che sia quella sul caso Moro, ovviamente, dove sono maggiormente competente. Il mio obiettivo in questo momento, ma lo soffro perché lo avverto nella pancia, e uno in particolare, a me è capitato più volte, per questioni anche familiari, di rivolgermi all'ospedale, al nostro ospedale. Tutti purtroppo abbiamo prima o poi bisogno. E ho visto ciò che non avrei mai voluto vedere, che si porta un po' indietro a Primo Levi. Se questo è un uomo e la dice tutto, se questo è un uomo che al pronto soccorso attende delle ore prima di ricevere una visita, se questo è un uomo che resta accanto un ammalato grave e non ha la possibilità di godere della sua riservatezza o delle cure necessarie. Allora, davvero, dobbiamo rivedere tutto. Io sono un avvocato e non le racconto ciò che accade nell'ambito della giustizia, non le racconto quando devo pagare per l'urgenza il triplo dei diritti di cancelleria e devo portarmi anche la carta per le fotocopie da casa. Siamo davvero all'impossibile. Allora, ecco perché l'operazione del Movimento 5 Stelle è fondamentale. Tutti noi, con le proprie competenze, abbiamo deciso di rimboccarsi davvero le maniche. vediamo cosa possiamo fare nell'interesse del Paese. Noi abbiamo un programma, guardi professore, e forse siamo stati l'unici a redigere il programma accogliendo le istanze della base. È un programma condiviso con la gente e lo porteremo avanti davvero con l'impegno ecco approfittando della presenza di queste professionalità altamente specializzate forse al netto della mia presenza sarebbe per dire che porteranno sicuramente un vantaggio per questo Paese. In conclusione siamo ormai sui titoli di coda. Gianluca, perché i mesagnesi, ma non solo i mesagnesi, quelle di Avetrana, di San Vigliere, di San Piero e Nodica, quella del collegio numero due, dovrebbero votare 5 Stelle, dovrebbero votare Gianluca Giovanni Luca resta. Perché? La risposta è semplicissima. Mani pulite che sanno come lavorare con la testa e con il cuore. Grazie, grazie a voi. Bocca al lume. Grazie. 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 Grazie.